ok ragazzi ci risiamo stiamo camminando verso il versante est verso la capitale vittoria e ovviamente ci aspettiamo un altro passaggio perché se no si muore a mezzogiorno e mezzo sono quasi 40 gradi passaggio la polizia best taxi ever the police thank you very much thank you god bless you have a nice day guys bye bye i nostri angeli pomeriggio sono stati loro e la polizia che ci hanno accompagnato a vittoria in realtà quando hanno visto mano volevano arrestarlo però poi hanno avuto vabbè aiutiamoli dai sti ragazzi sono in difficoltà quindi ora siamo al porto di vittoria in cerca di un pranzo andiamo a vedere dove siamo il cinese di haway quanto è speso costi 10 euro si vola ho fame siamo fermati da questo cinese buonissimo c'è un po di tutto pollo maiale insalata cili veramente troppo siamo sempre in versione zingara qui alle 6 e come giusto che sia visto che eravamo al porto qui a vittoria abbiamo deciso di ottimizzare e fare già i biglietti per domattina perché domattina lasceremo l'isola di mahè e andremo a praslen un'altra isola e con meno di 60 euro a testa solo andata ci siamo presi i biglietti ragazzi le stasciate suonare però questo è se vuoi andare a praslen per meno che non ti adottano prima il biglietto costa questa cifra buongiorno ragazzi terzo giorno alle seychelles oggi ce ne stiamo andando a praslen buongiorno ragazzi terzo giorno alle seychelles oggi ce ne stiamo andando a praslen eccoci qui ragazzi in una classica fermata del bus alle seychelles vedete abbiamo già perso il primo bus stiamo aspettando quello delle nove e cinque siamo alla fermata del bus praticamente le seychelles si possono girare sia in taxi che in con il bus locale ovviamente noleggiando la macchina noi abbiamo preferito provare con il bus il costo di una corsa è di 50 centesimi quindi è davvero molto economico non sono frequentissimi però insomma ci si può adattare mentre il taxi invece costa 3 euro al chilometro quindi se fate ad esempio 20 km avete già speso 60 euro insomma allora ragazzi finalmente arrivati a praslen dopo un'ora di traghetto da mahè siamo a codore una delle spiagge più belle qui sull'isola e specificatamente siamo a dormire alla sky blue guest house questa è la villettina dove dormiremo le prossime quattro notti è bellissima e veramente abbiamo speso un niente perché alle seychelles la media a notte di 150 euro questa ci è costata la bellezza di 84 nella notte quindi praticamente la metà e adesso ve la faccio vedere il salotto ovviamente anche per il nostro figlio hanno già pensato al futuro bravi ragazzi poi c'è il cucinotto perché tutte le strutture che abbiamo scelto sono in self catering quindi non abbiamo né la colazione né pranzo né cena perché ci possiamo cucinare e così ci da la possibilità di risparmiare qualche soldino questa è la nostra camera da letto con l'aria condizionata le formiche e le tende del 1879 ma vi giuro che è bellissima ragazzi c'è la zona esterna guardate che bello è questo posto silenzio assoluto spettavo sono le due del pomeriggio e stiamo andando a visitare il parco nazionale di Braslen i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo nel Parco Nazionale di Praslen e questa foresta è importantissima perché ci sono palme che fanno il famosissimo cocco de mer, che è un famoso cocco a forma, direi di culo, che esiste solo e unicamente qua. Quindi questa è una foresta originaria che stanno cercando di mantenere perché è l'ultima su quest'isola. In questo parco ci sono anche un sacco di specie endemiche, sapete cosa vuol dire la parola endemica? Sì, non lo sapete. Endemico vuol dire che si trova solamente in questo paese, cioè solamente in questo parco. Tivo il cocco. È ufficiale. La ghianda più grossa del mondo. Oh lì un lemore. Ma che cazzo fai di ossa? Oh lì un lemore. Ma che cazzo fai? Ma poi un lemore ti potevo voler male, tipo una pantera. Dai raccontaci di questa frusta. Come vi dicevo prima, qui sono famosissimi i cocchi cocco de mer, che assomiglia a culo. Ed eccolo qua. Io ci vedo anche una vulva, ma quello è soggettivo. È gigante. E ti sei accanto alla faccia? È gigantesco. Ho la faccia a culo. Eh sì. Si vola. Grazie a te molto. Pignacolata l'alcolizzata. L'alcolista. E questo è per me. L'alcolista. Sì, 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 me too. Grazie a te molto. Così. Bella sta brocca di latte fresco. Questa ragazzi è la birra nazionale. Vi giuro non riesco a smettere di berla. Infatti la bevo. Tuna stick e fish and chips. Allora, questa che vedete alle mie spalle è il centro, diciamo, di hot door. La strada principale dove si trovano ristoranti, negozi e basta. Ci sono forse 3-4 ristoranti, 2-3 mini market, un paio di ATM e non c'è un grand che. Pensate che questa spiaggia è una delle più animate. Quindi, se venite alle Seychelles, non vi aspettate di trovare nightlife. Si viene per riposarsi e si viene per il mare e per le spiagge. Vedete ragazzi, niente. Stiamo tornando alla nostra villa, che è praticamente nel niente. circa 500 metri dal centro di hot door, il famoso centro di hot door, una gelateria e un'edicola. Però c'è la luce, signori e signori. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, è freddino. Ci arrotano. Incredibile. Ci manca due lampioni e siamo a casa. L'intravedo. Siamo a traslame. La lì, c'è fantastica.